C'è uno strano legame tra il coronavirus, la situazione che stiamo vivendo, e la vita di Landauer, che fu indubbiamente segnata dalla improvvisa morte della compagna, la poetessa Edwig Lachmann, avvenuta nel febbraio del 1918 a causa del virus dell'influenza spagnola che colpì il mondo durante la Prima Guerra Mondiale. Si tratta di una perdita dalla quale non si riprese mai Landauer e che nonostante questo non gli impedirono di partecipare a quello che sarebbe stato un grande evento nella storia del movimento rivoluzionario contemporaneo, cioè la nascita della Repubblica dei Consigli Baviera, che accompagna un movimento rivoluzionario che tocca l'Europa in diversi punti. Dopo un lungo periodo di stasi, perché l'ultima grande manifestazione della rivoluzione in Europa risaliva alla Comune di Parigi, se si fa eccezione per quel periodo nel 1905, che in Russia, quindi ai margini dell'Europa, un movimento rivoluzionario si presenta. Landauer, come è noto, sarebbe peraltro morto nel maggio del 1919, il 2 maggio, a causa della repressione dello Stato contro quell'esperienza rivoluzionaria. Bene, sembra un filo lontano quello che lega a noi a quegli eventi, eppure alcune scelte di Gustav Landauer in quella fase furono sorprendenti e forse mi viene in mente possono ancora dirci qualcosa. Landauer aveva passato un'intera vita, che era stata una vita di militante nei movimenti anarchici tedeschi e europei, internazionali, ma anche una vita di riflessioni intellettuali sull'anarchia, sull'anarchismo, sul socialismo. Ecco, dicevo, aveva passato l'intera vita invitando i rivoluzionari a costruire una controsocietà ai margini di quella esistente. Aveva passato la vita a predicare la fuoriuscita dalla comunità statale, non per allontanarsi per sempre, ma per tornare più forti di prima e forti di esempi concreti della possibilità di vivere diversamente in comunità, in fratellanza, da donne e uomini liberi capaci di produrre quanto necessario la vita attraverso la cooperazione e il lavoro cooperativo. E' chiaro che la prima guerra mondiale cambia tutto. Cambia tutto non solo per Landauer, ma per tutta una generazione di rivoluzionari, di donne e uomini impegnati nella trasformazione, nel tentativo di trasformare le condizioni del mondo. L'arrivo della guerra, dicevo, cambia tutto, anche perché porta alla ribalta la tragedia della guerra stessa, con i milioni di morti nelle trincee, nelle retrovie, e accanto a questo nel 1918, come dicevo all'inizio, si presentano le decine di milioni di morti in tutto il mondo per quell'epidemia, appunto, che passerà alla storia come l'influenza spagnola. Certo, fu terribile quella epidemia produsse gravissimi perdite, anche perché erano misere le condizioni di vita nella guerra, perché erano deboli gli organismi, erano straziati i corpi. Miseria e debolezza, lo strazio di queste morti, erano responsabilità diretta di un sistema di vita, di un modello di sviluppo. Il capitalismo, nella sua fase imperialista, si sposava con quella potenza ormai smisurata e mortifera che aveva acquisito lo Stato. E quando la rivoluzione giunge, Landauer, che pure in passato aveva predicato, come dicevo, la secessione dallo Stato, dalla comunità dominata dal capitale, partecipa, non può esimersi dal partecipare. E si impegna, l'anarchico Landauer, come deputato nell'assemblea dei rappresentanti dei consigli, dei lavoratori, dei contadini e dei soldati. E poi, il 7 aprile, il giorno del suo compleanno del 1919, diventa addirittura ministro nella seconda fase della Repubblica dei Consigli, insomma, per un breve periodo un uomo di Stato. Landauer aveva sempre pensato che lo spazio occupato dallo Stato nella vita associata fosse in realtà la misura della incapacità o dell'impossibilità dei soggetti sociali di soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali del popolo. Insomma, pensava che fino a che i rivoluzionari non fossero stati capaci di rispondere alle necessità, ai bisogni generali, lo Stato sarebbe stato presente e legittimo e avrebbe esso dato le risposte, col suo linguaggio naturalmente, con i suoi mezzi e nel rispetto degli interessi delle classi dominanti, a quelle domande che provenivano dal basso. Allora ecco i problemi così lontani che in qualche modo ci sollecitano nella situazione particolare, eccezionale che viviamo. Questa epidemia in effetti ci dice qualcosa sul nostro mondo di chiaro e inaggirabile. Dice qualcosa sul capitalismo, che è un sistema di vita evidentemente assurdo perché distrugge la vita, lo fa in ogni momento e ormai in ogni luogo. Questa crisi, questa epidemia dice qualcosa sul complesso delle classi dirigenti, che in Italia in particolare, ma lo stesso discorso potrebbe essere fatto per altri contesti, dimostrano ogni giorno di più che le nostre vite non valgono un soldo dei loro profitti. Questo non sembra il retorico perché lo abbiamo visto in esempi concreti in Lombardia, Milano e fino anche in Piemonte e così via, in Veneto. Queste classi dirigenti, largamente intese, si sono arricchite negli ultimi decenni sullo smantellamento di ogni conquista sociale del passato. ma questa epidemia dice qualcosa sulla più circoscritta classe politica, non solo quella del governo centrale ma quella dei governi locali. L'inettitudine di questa classe politica è sotto gli occhi di tutti. È una classe politica che attualmente mette un rattoppo alle sue mancanze perché è quella stessa classe politica che in modalità diversa, a seconda della casacca indossata, ha favorito la privatizzazione della sanità, la rinuncia a qualsiasi politica di costruzione di strutture di base, per esempio il campo sanitario, ma non solo, di cui oggi avremmo invece molto bisogno. E oggi ci costringe necessariamente nelle nostre case, spesso non dicendo tutta la verità e magari in qualche caso chiedendoci di cantare per la patria ferita. Ma questa epidemia dice qualcosa su tutti noi, perché questa crisi ci dice evidentemente cosa non siamo ancora. Dico noi che pensiamo di poter criticare e magari cambiare il mondo in cui viviamo. Ci dice anche cosa non diventeremo mai se non incominciamo a porci oggi dei problemi veri, concreti, se non sviluppiamo capacità di rispondere ai bisogni di quelle masse insieme alle quali, con le quali bisogna organizzarsi per rispondere collettivamente insieme ai bisogni che dal basso provengono. Ci dice cosa non diventeremo mai se non saremo capaci non di abbandonare, ma di relativizzare le identità consolatorie che soprattutto in momenti di crisi si consolidano, fino a diventare spesso ideologia della purezza o in qualche caso forme strane di opportunismo. Dobbiamo insomma essere capaci di costruire insieme nuovi legami, direbbe Landauer. O sempre lo stesso Landauer potrebbe dire così, se non creiamo un nuovo spirito noi non usciremo mai dalla crisi di civiltà in cui siamo precipitati.